da parte di due autori, anzi del curatore e dell'autore Antonio Ghirelli. Da parte mia, che sono un giornalista con una storia personale liberale, libera o democratica, c'è una visione di Napoli più critica rispetto a quella di Antonio Ghirelli. Antonio che invece viene da una storia socialista, diciamo guarda alla rinascita di Napoli con un occhio più benevolo e quindi il libro non è assolutamente univoco nelle sue conclusioni, ma da parte del curatore e dell'autore c'è un dibattito serrato, leale, onesto e poi il lettore si farà la sua idea circa la Napoli di Passolino, se è una Napoli veramente rinnovata o se invece è una Napoli ancora tutta in fieri, ancora tutta a fare. Tutto è cambiata realmente la Napoli di Passolino? La Napoli di Passolino è cambiata, intendiamoci, io non appartengo allo schieramento dell'Ulivo, io stimo, apprezzo nuovo, anche se in modo critico. La Napoli di Passolino ha avuto due cambiamenti fondamentali, uno è stata la trasparenza della gestione e l'altro è stato il ritrovamento dell'orgoglio di essere napoletane. Ecco, questo è l'aspetto positivo, contrariamente a quello che si può pensare, io non mi addentro, anche perché non vivo a Napoli, vivo a Roma, non so come sia andata veramente l'amministrazione, so però che l'immagine della città è cambiata, è cambiata nel mondo e questo è dovuto a questo ritrovato orgoglio, a questo tentativo, certo difficile, complicato, complesso, tanto quello sarà nel secondo mandato di Passolino, nel tentativo di non accettare la resa.